aggiornamento del negozio jet e andiamo a vedere che cosa è uscito oggi ho già visto eccola qui quella che mancava ancora la ghoul trooper 1500 vbac due stili quello diciamo truccato e quello più realistico questo è quello predefinito e poi c'è quello si chiama zombie ma è un pochino più realistico diciamo io preferisco questo stile qua la gente invece preferisce il primo anche quello super classico dietro la schiena cervello dorso quindi il cervello spappolato poi c'è delirio 1500 vbac con dietro la schiena la runa dell'illusione stra stra bello lo zainetto la schiena un po meno il maghetto castore 1500 vbac con quattro stili predefinito di fuoco c'è quello ghiacciato eccolo qua acqua ghiacciata e infine quello oscuro anche questo è già è abbastanza carino come come zainetto poi abbiamo il punk è morto quindi non mi ricordo ragazzi c'era ieri mi sembra di sì sì c'era anche ieri anche assaggio di paura e cicuta elmira leatherface poi abbiamo michael myers i cattivi disney e il bundle di shi venom il bundle di eddie brock e poi è tornata anche 11 bundle di stranger things 2500 vbac 11 1500 tre stili che poi sarebbero diciamo due quello predefinito quella dell'esperimento e quella dell'esperimento con il casco poi abbiamo il balletto collezione telecinetica 200 vbac raga compratevi sto balletto perché è 200 vbac secondo me ne vale la pena fa volare i waffle poi abbiamo la mazza di steve 500 vbac mazza chiudata raga e la lancia di eddie 500 vbac anche questo abbastanza carino poi abbiamo o per 1500 vbac due stili predefinito e lo stile col cappello il demo gorgone soltanto uno stile raga eccolo qua è davvero davvero carina sta skin 1200 vbac cozzi diorama del rifugio di hop per 400 vbac primo stile predefinito il secondo stile invece del sotto sopra vt c la vrap 500 vbac e poi andando giù abbiamo il bundle rubino e opal che costa del 2000 vbac 800 opal 12 rubino cedi striati 500 vbac il deltaplano 500 vbac il piccone 300 vbac invece la vrap ranger 800 vbac 500 vbac affettatrice quindi un'altra un altro piccotto fosca fiaba 1500 vbac due stili col lupo in testa senza lupo e lo scudino del lupo dietro la schiena insomma carina e poi abbiamo il maschio della discatenata volpe di fuoco raga davvero bruttino con la maschera col casco senza maschera senza casco si può fare un po in tutti in tutti i modi carol g e poi abbiamo traccia e gemma penso sia finito qui lo shop quindi manca all'appello soltanto rubino oscura e il maschio della della guld trooper jonesi vestito da zombie raga un like ozzo mi raccomando per supportare il canale domani live 3 e mezza si vado a venire a giocare a bros stars ciao